...quanta gente di aria... ...e dentro io vido, 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 ma so, ma so... ...o con questo, o con questo, capite? Io vido un giovanotto, un mladizzotto, con grande scia... ...e un pezzo di colapazzo, con l'alcino al canale, capite? ...e questo giovanotto parlava saggiamente, ma con un povero uomo... ...ma con un povero retto, capite? E lui è zaniera, o che investe le gambe, nocchie, e una e l'altra, tutte le due... ...ma lui, lui non investeva mai le gambe di una e di l'altra... ...ma quando lui, questo giovanotto, ha percipato una poteglia libera... ...voletti molto per l'occupazione... ...e dopo due orologi, io vido, ma so... ...ancora, davanti alla posta principale, telefono, telegrafo... ...l'entri, vieni, 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 vieni... ...ha ascoltato un caro amico, un carro duco... ...e questo, caro amico, mu donava i consigli di ogni butone di quello mantello... ...e questo... ...e questo... ...e questo... ...e questo... ...e questo tramvai... ...e questo... Come ho vedo? Druzie a voi! Io vedo un'argo con un'argo con un'argo con un'argo con un'argo con un'argo con un'argo Il mio avviso ha detto a un'argo non v'argo 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 Поis this non v'argo il'argo l'argo l'argo Il mio avviso il mio avviso se il come si sono One day I'm going to Trampe in just over two hours and I look one young man beautiful hat very interesting because hat have a cone of its own and his breath was so long and yet now this young man took a beauty for another old man from high society because this old man was incredible now no how could that this young man making pages like the normal two hours later I look one small game this young man just around the corner of big postage in conversation to be trumbled what why why because the movies Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.